La prima piccola classe fu accolta qui nella stanza posta a fianco dell'altal maggiore della chiesa delle stimate. Correva l'anno 1816, era il 4 di novembre e i banchi in quel freddo autunno di 200 anni fa erano i letti ribaltati sui quali dormivano i ragazzi raccolti da Don Gaspare. Di tempo ne è passato e le cose oggi sono molto diverse ed è proprio per questo che il ricordare, il raccontare agli alunni di oggi quegli inizi diventa ancora più importante. Cosa direbbe San Gaspare Bertoni? Invece cosa dice il provinciale oggi a questi ragazzi? Cosa amerebbe che questi ragazzi diventassero per dare continuità alla grande esperienza di scuola delle stimate? È difficile rispondere cosa farebbe, cosa direbbe Don San Gaspare oggi. Una cosa è certa che San Gaspare ha speso la sua vita per i ragazzi e quando il suo parroco a San Paolo in Campomarzio gli ha detto guarda i ragazzi ti aspettano e lui si è buttato a corpo morto con questa iniziativa di oratori mariani e poi nella scuola e ha fondato questa scuola. Cos'è che vorrebbe dire oggi? Ragazzi abbiate sempre dei sogni grandi e fate della vostra vita un dono per gli altri. Canonizzato da San Giovanni Paolo II il primo novembre 1989, San Gaspare Bertoni è una di quelle figure che ha dato risposte educative concrete ai bisogni del suo tempo, così come fanno oggi gli stimmatini attraverso l'opera delle scuole e non solo. I tempi moderni, i tempi attuali consentono di cercare di soddisfare i soliti bisogni in maniere nuove e i bisogni che intercettiamo sono il bisogno di identità e quindi di cogliere i propri talenti e di svilupparli e di portarli veramente a una realizzazione e poi il bisogno di appartenere e di appartenere a gruppi, a una famiglia che significa per noi cercare di capire le aspettative delle famiglie e anche le difficoltà nelle quali versano. E questo come chiesa vuol dire anche che il talento riconosciamo che viene da Dio e l'appartenenza ad una comunità cristiana per noi realizza pienamente il senso della nostra vocazione come scuola. Gli allievi del terzo centenario della scuola, grande responsabilità. Sì, è vero, ma io credo che la passione per l'educazione non tramonti mai perché è insita nella nostra natura. Noi siamo fatti per crescere i nostri figli e vorrei ricordare che Massimo Recalcati, un grande neuropsichiatra di oggi, ha scritto un libro che si intitola Un'ora di lezione. Come sottotitolo ha messo come può cambiare la vita. Cioè noi crediamo ancora oggi che un'ora di lezione possa cambiare la vita di questi ragazzi. Per cui essere sul pezzo, essere sul campo là dove i giovani diventano uomini è una missione fondamentale.